I tagli del governo colpiscono pesantemente le province. Per quella di Pescara, la sforbiciata sarà di oltre 7 milioni e mezzo di euro con innegabili ricadute su scuola e manutenzione stradale. Soprattutto in questo secondo caso si prevede un abbattimento dei lavori di quasi il 50%. Si preannuncia un notturno caldo anche per le scuole di tutto il pescarese che hanno già sofferto di tagli in passato. L'unica buona notizia riportata questa mattina dal presidente della provincia di Pescara, Guerino Testa, e l'avvio dei nuovi lavori alla piscina provinciale. Parliamo solo dell'annualità 2014. Questo grido d'allarme di dolore è partito dalle province già dal 2010. È fatto rimanere inalterata la voce per l'assistenza e il trasporto di sabbi, circa 1 milione e 300 mila euro, ma abbiamo la copertura fino al 31-12 del corrente anno. Vuol dire che il prossimo anno ci sarà zero per tutti, non si garantiranno assolutamente servizi minimi di assistenza e di vivibilità per il nostro territorio, però voglio anche rimarcare che nonostante tutte queste difficoltà noi abbiamo investito oltre 60 milioni sulla viabilità, oltre 13 milioni sulle divise scolastiche, abbiamo portato a casa importanti traguardi, l'ultimo è quello della piscina provinciale, abbiamo dato notizia l'altro ieri, però il prossimo anno sarà proprio nera 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 per tutte le province.